ed eccoci qua dunque l'Italia supera il Belgio so qua anche la figurina dell'Italia quella della collezione delle Selunga che per l'Olimpiadi ma va bene fa niente fa niente l'Italia che batte il Belgio si qualifica per le semifinali e oltretutto da Juventino oggi ho ottenuto il massimo perché uno Juventino giocherà la finale dell'Europeo che sia l'Italia con Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi o che sia Morata uno Juventino sarà in finale dell'Europeo beh devo dire la verità l'Italia oggi secondo me ha dimostrato di dominare l'Italia secondo me è la squadra più forte dell'Europeo non più forte tecnicamente perché l'Italia è belgio tecnicamente sulla carta era molto più forte ma praticamente sul campo quella che sta facendo vedere il miglior calcio con un gruppo coeso eccetera è l'Italia è l'Italia l'Italia che nel primo tempo secondo me ha dominato il Belgio sul piano del gioco e della preparazione tattica ma io poi ho la mia opinione e se andate a vedere i video del Mondiale eccetera l'ho sempre detto credo che Martinez sia un allenatore che col calcio c'entri poco o nulla perché comunque il Belgio ha una qualità tale che è riuscito a buttare nel cestino una generazione di fenomeni con la quale avrebbe potuto portare a casa qualcosa e invece ha portato via due eliminazioni pesantissime quarte di finale forse addirittura quattro anni fa con Conte addirittura forse è uscito è uscito addirittura forse addirittura agli ottavi se non mi ricordo e poi mondiali comunque hanno festeggiato un bronzo mondiale peccato che quella squadra non era una squadra da bronzo mondiale era una squadra da giocarsi in mondiale alla pari con la Francia ecco qual è il motivo per cui reputo Martinez un allenatore un po' poi mi piace perché adesso si vantano del ranking ma il ranking FIFA non conta veramente nulla cioè ragazzi basta con questa storia cioè io quando leggo le cose del Belgio è primo il ranking FIFA ragazzi conta il campo il ranking FIFA io faccio 50 amichevoli con San Marino e vinco il ranking FIFA e cosa mi arriva in tasca ragazzi contano i trofei contano i trofei nel calcio non contano i ranking non è che siamo galliani con i ranking 5 anni e l'Italia sta dimostrando di essere la squadra più forte di questo europeo l'Italia sta sta veramente dominando l'europeo lo dico con io scettico lo dico ripeto chiaro che simpatizzo l'Italia anche solo per il fatto che gran parte della squadra è della Juve la difesa è della Juve ma non sono il primo tifoso dell'Italia l'ho sempre detto io sono tifoso della Juve quindi io seguo la Juve se l'Italia vince mi fa piacere se l'Italia perde non ne faccio un dramma ma oggettivamente quindi questa mia neutralità mi fa dire questo l'Italia è la squadra più forte di questo europeo quella che sta dominando in lungo e in largo se l'Italia non si suicida non si suicida lo porta a casa in carrozza lo dico adesso ma attenzione perché abbiamo noi nelle nostre corde i suicidi tipo quello con la Corea di Paddoic con la Corea del Nord con la Corea di Sud con Han nel Mondiale 2002 quindi noi i suicidi nel DNA ce li abbiamo a questo aggiungo anche una consapevolezza che mi è venuta vedendo la partita questa Italia è anche fortunata perché il Belgio comunque ha avuto un paio di occasioni dove Spinazzola di Coscia e Lukaku ha avuto le occasioni in Belgio e non le ha sfruttate Spinazzola purtroppo si è fatto male e ho paura forse sia qualcosa di serio non soltanto non credo che sia muscolare il problema di Spinazzola stavolta boh ragazzi non è che c'ho molto da dire è che l'Italia va a giocarsi una semifinale è la quinta volta nella storia degli europei che accade e insomma credo ripeto meritatamente senza discussioni lo dico anche a scanso di equivici il rigore per il Belgio per me c'era forse è stato l'arbitro l'avrei dato so che su internet stagiranno tanti che si lamentano io l'avrei dato detto papale papale e sinceramente sto vedendo un'Italia che ripeto oh ragazzi sta dominando cioè non c'è niente da fare oggi io ho visto il Belgio mi dava la sensazione che il Belgio potesse non segnare anche se la partita fosse durata 200 minuti chiudo dando un messaggio ai miei colleghi di tifo che a volte tanto colleghi non sono però quando vi lamentate di Chiellini bisogna prendere una saponetta avete presente il sapone quello proprio da bucato quello pesante e dovete passarvela proprio sfregarvi la bocca proprio ripetutamente ripetutamente perché ragazzi Chiellini oggi non ha sbagliato niente non ha sbagliato niente se oggi non ci fosse stato Chiellini con Lukaku che ha fatto una partita brutta perché Chiellini l'ha resa brutta però attenzione nella partita brutta ha segnato un rigore e se non c'era Spinazzola sulla linea avrebbe trovato il 2-2 io ripeto se non c'era Chiellini con questo Lukaku e questi spazi che c'era ragazzi il Belgio oggi rischiava di ammazzarci migliore in campo non saprei bene a chi darlo perché a me l'Italia è piaciuta tutta io lo do a Chiellini che tutte le azioni d'Italia sono partite da lui l'aver mollato il suo precedente allenatore aveva gli messo due allenatori uno che è stato esonerato dal Chelsea ma secondo me gli ha già fatto fare un salto di qualità che era Lampard perché giocava in corruolo e l'altro invece Tuchel molto preparato tatticamente grande allenatore l'hanno reso veramente un giocatore di livello mondiale adesso dà proprio la sensazione di avere un carisma che altri non hanno a centrocampo dell'Italia beh ragazzi l'Italia in semifinale dell'europeo ripeto dominando il Belgio senza se senza ma Belgio Italia termina 2-1 per l'Italia l'Italia andrà in semifinale contro la Spagna uno giuventino è matematicamente in finale dell'europeo che sia Morata con la Spagna o che siano Chiellini Chiesa Bernardeschi e Bonucci con l'Italia ragazzi a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video ciao a tutti